Eccoci e bentornati sul mio canale! E' arrivato oggi il DLC Dead Kings per Assassin's Creed Unity! Credevo che fossi morto! Che modo bizzarro per dirmi grazie! Ha ricevuto il mio messaggio? Lo faccio, ma poi lascio la Francia! C'è un posto su una nave da Marsiglia per l'Egitto fra quattro giorni! Hai già idea di dove si trovi il manoscritto? Condorcet si sentiva braccato! E' sparito per due giorni prima dell'arresto! E' stato un po' di più! E' lasciato questo! Il manoscritto deve essere nella tomba di Luigi IX! Nella cripta reale? Oh! State attento, signore! I fantasmi dei re si aggirano là dentro! Quando intrappolano una vittima, poggiano sul suo viso una corona fatta di pugnali, infilzano gli occhi e quelli scoppiano come gli acini d'uva nella pigiata! Oh! Mi farebbe molta più paura salire sul trono di Francia! Quanto all'uva, fai il tuo lavoro! Sì, signore! Trova la tomba con questo stemma e recupera il manoscritto! Ci rivedremo, fratreccio! Alla tu, Arno! Questo ricordo è anomalo! Ci tagliava fuori dai dati Elixen! Ok ragazzi, allora, vi stavo dicendo oggi è uscito il DLC Dead... Ehi, ma dove ci sta portando? Un'altra sequenza di DNA, credo! Non resta che scoprirla! Il DLC Dead Kings per Assassin's Creed Unity, per Xbox One... E il DLC Dead Kings per Xbox One e PC... Domani arriverà anche per PlayStation 4... Qua subito rogne! E che cacchio! Ma è possibile che non si riesce a giocare con cacchio? Che cacchio è che mi rompe già l'anima? Che già sta a iniziare una missione e già rompete? Aia, aia! Oh, parco cane! Ma che è? Tutti che rompono l'anima a me! Oh, ho iniziato la missione ragazzi! Già che mi rompete? Aia! Tienilo, tienilo! Perfetto! Aia, chi è che spara? Meno male che... Sono bello potenziato e non mi potete rompere l'anima! C'è pure tutto quanto tra energie e via dicendo... Praticamente questo DLC ci catapulterà a Sandeni nel 1794... Questo DLC dovrebbe assagurare ben 5 ore di gameplay aggiuntivo... Tra storia, ovviamente, missioni secondarie, nuove armi, nuovi equipaggiamenti, nuove personalizzazioni e tanto altro... Quindi oggi Xbox One e PC domani PlayStation 4... Allora, dobbiamo subito andare alla ricerca della cripta reale... Dove qui sicuramente si nasconderanno... Ci saranno delle tombe dei re perché Sandeni è un posto molto, ma molto rognoso... Chi è? Porco cane! Tutti quanti che rompono da me... Aia! Tienilo! Bello! Grande! Grande Arnaud! Bravo così! Comincia a levarti qualche soldatino perché non è possibile... Che volevo farla un po' stealth... Invece iniziamo subito con le beghe più assolute... Ho fatto anche... Se vedete molti... Oh! Chi è che mi ha tolto un mare di... Ho fatto già un mare di potenziamenti al mio Arnaud... Perché vedete siamo diventati sicario esperto... Sono riuscito a dare fino all'ultimo potenziamento salute... Oh! Ma guardate questo! Muori va! Dai un po'! Perfetto! Oggi cercherò di proporvi ben due video... Questo qui introduttivo che vedremo la prima parte ovviamente di questo DLC... E poi più tardi spero di farvene anche un altro... E poi ovviamente un appuntamento al giorno con questo DLC... Perché sto facendo anche... Come avete visto sul canale la storia principale... Eccola qua! Cripta reale! Recupriamo le energie va? Oh! Vediamo un po'! Eccoci qua! Perfetto! Trova la tomba di Luigi IX... Infatti quello che vi dicevo... Che avremo a che fare con le tombe dei re! Niente! Niente! Un po' questa? Niente! Guarda questa! Qui non c'è niente! Niente! No! Mi sembra... Non è qui! Che cavolo! Dove stai? Bello! Non è qui! Non è qui! Ecco ho visto qualche altra cosa! Lui? Vedi un po'! Sì! Perfetto! Ecco Luigi IX! Era ovvio! Dov'è? 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 Merda! La porta del tempio è qui! È sulla mappa! Non c'è niente E ho perso tempo dietro a queste pandonie State offendendo il mio onore E il tuo onore di soldato? Non farmi ridere Puoi rompere il tuo contratto Ma anch'io sono libero E sai già che cosa voglio Chiedo scusa, capitano Ho inteso che c'è una lista delle reliquie rubate da quella tomba Posso condurvi da loro? È un'alternativa al tempio Non è questo che voglio Guardami negli occhi quando ti parlo Tu sai cosa voglio Sì Bene, siamo d'accordo Trova il tempio E forse uscirai da qui vivo È stato un piacere Aiuto Che dite? Un alleato o un nemico? Atterra Insegui il miliziano Ok Però mi dice a terra Che dite? Allora Bomba stordente Bomba carta Proviamo a stordirlo Ah, se l'è andato Ok Però volevo Tipo Spaventarlo Dove è andato? Cacchio è passato Cacchio, ma dove cacchio è passato? Scusa, è entrato qua Ah, eccola la porta E vabbè, amica Se vede, è buio Come chiedo Alza a me un po' la luminosità Dello schermo Perché parco cane Ma mica lo riuscivo a vedere, eh Assurdo Nel senso C'ho la luminosità troppo Per il fatto di cod Che ce l'ho Un po' troppo scuretta E qua Cacchio Andiamola a prendere Andiamola a prendere Su, 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 su Che spettri So io, so Che spettri Spettri Vai, vai, vai 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 Che se mi dice bene Poi l'alza un pochettino Cacchio è andato Qua sotto Perfetto Trovato Uh Matto Morto A te non servono più Non ti dispiacerà Sei morto Grazie amico La mappa Lista di Don Poirier E delle reliquie rubate Nella biblioteca Conterrò Tieni premuto Ls per accendere E spegnere la lanterna Quando la lanterna è vuota Trova una giara Per riempirla Le giare appaiono Sulla mappa Quando la lanterna Si sta esaurendo Vedi? Quindi già Una nuova cosetta Da fare Trova una giara Per riempire la lanterna Trova il modo Di tornare In superficie Perfetto Porco cane Spettacolo Allora Qui sopra Già si può salire Andiamo No Non mi ci fa andare Sembrava tipo Molto semplice Invece col cacchio Allora fatemi vedere Per lustriamo Qua si può andare Invece Creature del sottosuolo Sottoterra Vivono molte creature Che possono ostacolarti Il cammino Ma che si spaventano Alla luce della lanterna Tieni premuto Ls per accendere E spegnere la lanterna Ok Perfetto Andiamo Così Dovremmo andare Senza problemi Perfetto Ok Dobbiamo raggiungere La superficie Abbiamo anche Una bella mappetta Che Ci sarà Molto utile Per recuperare Penso Tutti Le cose Che Oh Chi è là Ah ok Questa è una giara Per riempire La mia lanternozza Benissimo Allora ragazzi Facciamo una cosa Fermiamoci qui Facciamo proprio Questo piccolo assaggio Del DLC Death Kings Di Assassin's Creed Unity E ci vediamo Nel prossimo video Che continuiamo Ovviamente Questo Bel DLC Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale E mettete un bel mi piace Sulla mia pagina Di Facebook E ci vediamo Con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale